Un saluto a tutti e a tutte da Andrea Cartotto. Guardiamo insieme quest'oggi in maniera seria ed argomentata quanto più possibile oggettiva come ricercare di installare l'app Immuni, quali permessi veramente Immuni abbia come accesso al nostro telefono e raffrontiamola magari ad un'app come Facebook per capire se qualche differenza vi sia o meno. Allora, io sto utilizzando uno smartphone con sistema operativo Android. Sapete che le alternative sono globalmente Android, sistema operativo di Google, iOS, iOS, sistema operativo di Apple e poi c'è un sistema operativo offerto da Huawei. Huawei, sapete c'è stata una vicenda tale per cui alcuni modelli non dispongono del Play Store, dei Google Play Services, quindi è già dichiarato anche nelle specifiche di Immuni che, vedete che è partito il mio assistente vocale, è già dichiarato anche nelle specifiche di Immuni che sta arrivando l'app lì. Per cui un primo modesto limite che vedo è il fatto che possa essere ancora più capillare dal punto di vista del numero, telefoni e tablet che la possano accogliere. Io ora tocco il mio Play Store, iconcina. Qua vado a scorrere, vedete che avevo lasciato aperta e ci torniamo tra un istante l'app di Facebook, come si ricerca e si installa Immuni. Allora, riga bianca in alto, tocco, vado a digitare Immuni, poi clicco la mia lentina sotto, cioè la tocco. Vi raccomando, leggete Immuni, non ha niente a che vedere con Immune System. L'app da scaricare è Immuni Ministero della Salute, altrimenti poi accade come con Immune System che c'è qualcuno che ha recensito negativamente quella app scambiandola per quella ufficiale del Ministero. Vi prego. Quindi andiamo a toccare Immuni. Diamo un'occhiatina, le recensioni di media sono 4,2 su 5, dato indicativo, oltre un milione di download. Il PG3 è l'indicazione di limite d'età, cioè un PG3 significa colore verde, semaforo verde, che dai tre anni in su si può utilizzare, per cui la pericolosità è già considerata, oserei dire nulla. Ecco, ci interessa info sull'app, io tocco la mia freccina, questa è la spiegazione degli sviluppatori in sinergia con il Ministero della Salute, andiamo sotto, andiamo sotto, andiamo sotto, qua ve la commento io, ci dice che si utilizza un tipo di Bluetooth Low Energy, cioè a basso consumo energetico. Inoltre, veniamo avvisati che i dati, siano essi salvati sul dispositivo, mio, o sul server, non mio, saranno cancellati in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2020. Qui la prima analisi è che quando si parla di server, il server sempre è il computer di un altro, si dice in gergo, per cui io cancello una cosa da me e so di averla cancellata. Una qualunque altrazione su server non è sotto il mio controllo, ma d'altronde dovete fare la stessa riflessione quando ho pubblicato una fotografia su Facebook, perché anche lì ci sono i server e quando io carico un contenuto lì esce dalla sfera del mio controllo. Allora, Immune è una app di contact tracking, cioè che va a verificare l'efficacia delle misure di contenimento, cioè si, come dire, comunica con noi con un sistema di notifiche. Ecco, mi interessa andare ancora sotto, farvi vedere che l'ultimo aggiornamento di Immuni è del 6 giugno, che ha un peso ridotto per i nostri telefoni, per cui siamo a 10,38 megabyte. Mi interessa farvi vedere autorizzazioni app, mostra altro. Ecco cosa veramente richiede Immuni come permessi. L'accesso completo alla rete, tra parentesi internet, accoppiamento con dispositivi bluetooth, l'esecuzione all'avvio, perché se devi azionarla manualmente sempre tu, poi non vale il gioco delle notifiche. Codici di casuali, cioè Immuni dichiara, e sarebbe una enorme violazione al contrario, Immuni dichiara di non acquisire nome, cognome, numero di telefono, modello dispositivo e così via. Immuni mi può disattivare lo standby del telefono e visualizzare le connessioni di rete. Bene, avete visto quanto è corto questo elenco? Ora, e questo lo segnalo sia per gli utenti un po' più superficiali che per a volte i pseudo complottisti della rete, apro e vado un attimo a ricercare l'app di facebook che avete visto anche ad inizio videocorso, facebook lentina, vado a toccare la F di facebook, io già ce l'ho per cui apri e non installa, scorro con il dito, scorro con il dito, scorro con il dito, mi interessa info sull'app, freccina, scorro sotto, scorro sotto, mi interessa farvi vedere autorizzazioni app mostra altro. Ecco, un primo dubbio che mi assorte è questo, come mai nessuno, come dire, ha sollevato nel tempo questa problematica circa i consensi di facebook, mentre la problematica grossa è diventata quella di Immuni? Perché facebook ha l'accesso praticamente a tutto sul mio telefono, l'accesso al calendario, l'accesso alla fotocamera, l'accesso ai contatti, l'accesso alla posizione, al microfono, al telefono, allo spazio di archiviazione, tutto questo bell'altro. Può leggere la configurazione del servizio google, controllare la vibrazione, accesso completo alla rete, dispositivi bluetooth, ricchi premi e coti on. Allora, se noi guardiamo le autorizzazioni, già la comparazione questa è oggettiva, abbiamo visto come sia. Bene, installiamo Immuni e capiamo come funziona. Allora, lentina, vado a digitare Immuni, poi tocco la mia lente, tocco l'icona giusta che è questa viola con elementi bianchi e grigi, poi installa. Allora, attendiamo che la percentuale arrivi al 100%. Ed eccoci qua. È chiaro che su larga scala e su scala paese, più cittadini, più utenti hanno installato l'app Immuni, più effettivamente il campione è significativo per capire un po' cosa succede intorno a noi. Allora, ora installata, vado a toccare Apri. Adesso, lo schermo che voi state osservando sul computer è buio, ma sul mio smartphone si sta illuminando. Questo ve lo spiego io perché non c'è alcuna situazione strana e che probabilmente queste sono schermate informative, sono in... si dice sono sovraschermate, cioè sono al di fuori delle videate principali dell'app e allora ve le mostro in camera. Mi sta dando il benvenuto, ciao. Pulsante blu avanti, tocco. Ancora un pulsante blu avanti, tocco. Ancora un pulsante blu avanti, tocco. Pulsante blu iniziamo, tocco. Spiegazione circa la privacy del dispositivo. Tutti quei bollini col divieto sono le cose che Immuni non fa. Immuni non raccoglie il tuo nome, cognome, data di nascita. Immuni non risale alla tua identità perché sono i di codici casuali che vengono generati. Poi ci dichiara, e noi a questo dobbiamo credere, nel senso che è una dichiarazione di intenti, anche quella oggetto di ulteriore approfondimento. I dati salvati sul tuo smartphone, le connessioni al server sono cifrati. Ok? Quindi c'è anche questo parametro da tenere in considerazione. Allora. Grazie a tutti. Vi mostro ancora che c'è poi un tasto blu, eccolo qui, avanti. Due consensi da dare. Vado a mostrarveli in schermo. Eccoli qua. Quadratini bianchi bordati di rosso. Il consenso digitale, cioè dichiaro di avere almeno 14 anni e ho letto l'informativa privacy. Tocco, tocco, avanti. Scelta della regione. In che regione vivi? Ci sono tutte le regioni d'Italia, ma al momento Immuni attiva solo come sperimentazione in quattro regioni. Io tocco Liguria, avanti. Scelgo la provincia, ve lo mostro a schermo. Sono già premarcate ed elencate le quattro province. Imperia, avanti. E qui ho un avviso che mi dice che saranno abilitate le notifiche. Ecco, questo è interessante perché Immuni non ha accesso alla localizzazione e non può quindi conoscere posizione e spostamenti. Ve lo confermo nel senso che non mi è mai stato chiesto, fino ad ora, di attivare il GPS. Né io l'ho fatto a monte, perché volevo proprio fosse l'app a chiedermelo. La mia perplessità è solo legata al fatto che, leggendo le specifiche, il soggetto positivo deve dire ad Immuni di essere positivo. C'ha una operazione da fare. Allora, io adesso ho toccato Abilita, tasto blu. Eccolo qua. Vuoi attivare le notifiche di esposizione al Covid-19? Attiva. Mi sta dicendo proteggi il tuo dispositivo e mi indica, cioè, qualora io non lo avessi, di impostare un blocco schermo. Questa operazione, al di là di Immuni, va fatta sempre, perché in caso di smarrimento, in caso di furto, il telefono che mi permette, aprendo magari la custodia, toccando il tasto di accensione, di avere le icone libere, è nelle mani di chiunque. Ho capito tasto blu. Fai attenzione alle false comunicazioni. Ve lo mostro in camera. Tasto blu. Eccolo qui. Sperimentazione in corso. Quattro regioni. Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia. Tasto blu. Ho capito. Configurazione completata. Servizio attivo. Eccolo qua. Io, utente, non ho dovuto fare altro. Ripeto, ho solo la mia connessione ad internet accesa, tanto quanto il Bluetooth. Non ho il GPS attivo, né mi è stato chiesto di attivarlo. Non ho da fare altro, nel senso che c'è solo un disattivo al servizio blu scuro. Ora bisogna solo sperare che la notifica non arrivi mai. Toccando come funziona l'app, eccolo qua, ci viene spiegato questo. Immuni associa a ogni telefono un codice casuale. L'ID cambia diverse volte ogni ora. I telefoni che si incontrano si scambiano i rispettivi codici casuali. Il Bluetooth Low Energy è un Bluetooth che dichiaratamente dovrebbe incidere in maniera minima sulla batteria. Normalmente, ora con immuni serve sempre acceso. Normalmente il Bluetooth, se io non uso auricolari, non vado in auto, eccetera, andrebbe disattivato perché consuma batteria e non ha senso di essere sempre attivo. Ora io tocco la mia X piccolina. Mi incuriosisce questo ingranaggio impostazioni che vi mostro a schermo. E infatti mi incuriosisce al punto che lo vado a toccare. C'è caricamento dati, prima voce. Ah, ecco, questo è il codice, guardate. L'ID. Mi dice comunque di comunicare questi dati all'operatore sanitario. In realtà qua vedo un 962, eccetera, eccetera. Mi dà una sequenza di tre passaggi, però comunica questo codice all'operatore sanitario autorizzato. Attendi la conferma dell'operatore per proseguire. Verifica l'autorizzazione. Insomma, io non lo faccio perché questa funzione mi pare può essere la segnalazione di positività che l'utente volontariamente vada a dare all'operatore sanitario. Quindi in realtà ecco un'altra perplessità che però è legata alla natura con gestione privacy dell'app. Cioè l'app non può essere in grado di captare la positività, non fa diagnosi, non fa analisi. Ok? Ora io torno indietro, però vado su Home. Se c'è scritto, come potete osservare, servizio attivo, in realtà a questo punto io posso poi andare, nel caso del mio telefono Android, vado sul pulsantino, eccomi qua a schermo, pulsantino al centro mi porta a riposo, cioè torno al desktop del mio telefono, eccolo qua, e a questo punto francamente rimane attiva in background, si dice in Muni, cioè in esecuzione automatica. Vi mostro che c'è anche l'icona, eccola qua, in Muni. Tocco. Servizio attivo, so che state vedendo scuro, ma in realtà eccomi qua. Per cui non ho dovuto fare altro. Andrà sicuramente monitorata ed osservata nel tempo, al momento la riconferma che vi posso dare è che non viene chiesto, quindi non viene chiesto in alcun modo l'attivazione del GPS, anzi ve lo mostro proprio, cioè scorro, vedete, mia rete wifi, bluetooth, nessun GPS attivo o altro, ho messo anche il silenzioso, ecco in questo caso sul mio smartphone. Per cui giudizio al momento che vado a dare è un giudizio con riserva. Mi piace l'idea che sia una sorta di consapevolezza digitale per il cittadino. Interessante, lo farò, vediamo quante più possibili informazioni in rete, capire il funzionamento dei server che comunque sono dichiarati essere in Italia, sui quali vengono appoggiati i nostri dati, null'altro da segnalare. Bene che venga detto che entro il 31 dicembre 2020 comunque gli id verranno cancellati, l'unica osservazione è che come ogni cosa che parcheggio su un server, se io cancello una cosa da un dispositivo mio, la cancello ed è cancellata. Se una cosa lascia una traccia sul server o vado personalmente a verificare di averla tolta dal server o mi resta sempre un lecito dubbio che in questo caso non è affatto un complotto ma è un dubbio legato al buonsenso. Ci aggiorniamo qualora vi fossero ulteriori sviluppi o insomma ci fossero notizie meritevoli di attenzione. Spero di esservi stato utile. Ancora un saluto da Andrea Cartotto e ci rivediamo sempre qui sul mio canale youtube.com slash trainer trainer Andrea. A presto!